Continua da parte dei cittadini la protesta per salvare gli alberi di Corso Belgio. Lo scorso 26 giugno, infatti, il Comune di Torino ha dichiarato di voler abbattere questi alberi in quanto estremamente vicini alla linea tramviaria. Il comitato Salviamo gli alberi di Corso Belgio rivendica però quanto dichiarato dal Comune stesso nelle schede tecniche che certificano questi alberi, dove si evince che solamente 10 delle 242 piante sono effettivamente malate o a fine ciclo. I cittadini dunque credono che si tratti di un abbattimento indiscriminato dell'intera alberata e hanno indetto un presidio H24 che ormai prosegue da settimane e che, come dichiarato dagli stessi manifestanti, andrà avanti ad oltranza.